Andiamo. Beppe, la prima domanda potrebbe sembrare banale, però non lo è. In questo periodo pensavi di poter essere richiamato dalla Fiorentina? Cioè è stata mai un'opposizione? No, non ci pensavo, ma nello stesso tempo, essendo legato a tutto l'ambiente, alla squadra, alla Viola, perché sono rimasto comunque negli anni tifoso di questa squadra. Ovviamente legato poi di conseguenza al gruppo, alla società, a tutti quanti con i quali abbiamo condiviso lo scorso anno delle belle emozioni. E' chiaro, pensavo positivo, nel senso che le cose potessero andare meglio. Poi, magari, non so, si sa la storia recente cosa sia capitato e quindi magari è arrivata questa chiamata e come lo scorso anno, in un momento particolare, diciamo, e di difficoltà, magari non ho potuto dire di no e mi auguro di poter, in fretta, capire cos'è che magari non è andato o non va e per poter dare il mio contributo e soprattutto però sapendo che ci vorrà il contributo di tutti per poter risalire la classifica. Giovanni Sardelli. Salve, mister, ben trovato anche da parte mia, ovviamente. Volevo capire, proprio a livello di squadra, lei ha trovato una squadra molto simile, chiaramente, anche se con qualche elemento in condizioni diverse. Penso, ad esempio, in positivo a due calciatori che sono esplosi. Uno è Vlaovic e un altro è Eiseric, che nella sua prima gestione, insomma, era ai margini, non per scelta sua, insomma. Quindi chiedo se sono due elementi dai quali intende ripartire. Allora, guarda, per quanto riguarda Dusan, Vlaovic, ci porto solo un esempio. Lo scorso anno ha fatto 6-7 gol con me, senza rigori, perché il rigorista era Pulgar. Quest'anno ne sta facendo di più e sta migliorando il suo score, anche con i rigori, e di questo ne sono molto felice. Vorrei ricordare solo un aneddoto. Innanzitutto, quando inizio stagione, tutti parlavano di un arrivo di un'altra punta, al di là che potesse servire o meno, Dusan, quando mi veniva fatto il nome di Vlaovic, dicevo che è incedibile perché Dusan deve stare qui, perché ha un ottimo potenziale, è un ragazzo che prima o poi ci farà vedere delle belle cose. E nello stesso tempo, dopo la trasferta di Milano, l'emblema con l'Inter, quando stavamo vincendo 3-2, è entrato Dusan a 25 minuti dalla fine, mezz'ora dalla fine, ha avuto la palla del 4-2, purtroppo non è andata a buon fine, è entrato sull'episodio magari sfortunato del gol finale del 4-3 a favore dell'Inter, e dopo quella partita ci sono state critiche esagerate nei suoi confronti, tante critiche, il sottoscritto la partita dopo contro tutti e tutto l'ha fatto giocare titolare. Quindi questo fa capire la mia visione su Vlaovic, quella che era e quella che è e quella che è rimasta. Quindi all'inizio del campionato quest'anno magari non abbiamo potuto fare la preparazione, Quame era un po' più brillante perché più silino, più fisicamente, un po' più leggero, Dusan un po' più pesante, aveva bisogno solo di qualche settimana in più di lavoro, non a caso poi dopo, andando avanti, ha giocato le sue partite, è partito Quame, ma poi ha giocato le sue partite titolari. Quindi su questo, basta dire questo per capire la stima e la fiducia che ho in Vlaovic. Detto questo però, io voglio cercare con il lavoro, con la partecipazione, con cercare soprattutto di ritrovare tutti gli altri anche ragazzi, Quame, Caleion, tutti i giocatori d'attacco che magari hanno avuto un po' meno fortuna in quest'ultimo periodo perché un obiettivo nostro è quello di, avendo anche dei turni infrasettimanali, avere la disponibilità e la partecipazione di tutto il gruppo e in questo sarà importante che tutti, adesso non conta più Iachini, non conta più Beppe o Cesare, non conta più Vlaovic, non conta più Ribéry, non conta più Pezzella, non conta più Milenkovic, conta tutto il gruppo, tutta la squadra e che tutti possano portare una partecipazione, una disponibilità, un rendimento importante nel momento in cui si viene chiamati, che sia per 95 minuti, che sia per 30, che sia per 20, ma sarà fondamentale questo spirito, questo ragionare da noi, da squadra, da gruppo, per portare più in alto possibile la Fiorentina. Ne abbiamo bisogno. Coronella Ciullini. Ciao Beppe, buongiorno. Scusami, stesso discorso, scusa un attimo, stesso discorso ovviamente vale per Eseric, no? Nel quale c'è comunque stima e considerazione, anche quando era qui con me, con noi, anche se poi la situazione sua era diversa all'inizio, però sicuramente è un ragazzo dal quale mi aspetto tanto in questo finale di campionato. Ciao Beppe, buongiorno. Buongiorno. Mi hai ritrovato, bocca al lupo. Due cose velocissime. La prima è se ti senti di commentare quello che ha detto Ballardini qualche giorno fa, quando, parlando dello sfogo, delle spiegazioni che ha dato Prandelli per motivare le sue dimissioni, diceva, in fondo noi siamo allenatori, siamo dei privilegiati, cercando, come dire, in qualche maniera di minimizzare quello che aveva detto Cesare. E la seconda, qual è la cosa che dirai domani prima di scendere in campo alla squadra? Cioè, un concetto preciso per ripartire, per ricominciare? Grazie. Sì, ma non me la sento di commentare dichiarazioni di colleghi perché magari ognuno ha il suo pensiero e il giusto che venga rispettato, ma nel caso specifico nei confronti di Cesare personalmente ho grande stima e amicizia. Ci conosciamo da diversi anni e è nato un rapporto di, come dicevo, di amicizia, di stima e non me la sento di commentare un suo sfogo, un suo stato d'animo. È giusto rispettarlo. Lui stesso ci ha chiesto a tutti di girare pagina, di porre fine, di lasciarlo tranquillo ed è giusto rispettare la persona e in questo senso andare avanti e pensare a quello che è il lavoro. Quindi, detto questo, sì, sì, anche poi Ballardini sembrava avesse minimizzato un po' per dire certe motivazioni sono, come dire, ogni allenatore poi io non mi piace commentare il Ballardini, Davide ha un suo pensiero su questa situazione e quindi lo ha espresso poi ognuno ha la sua idea però ecco, la rispetto ma poi ecco io per quanto mi riguarda nei confronti di Cesare preferisco non rispettare la persona non andare avanti con commenti non andare ancora a parlarne proprio perché è lui che ha già spiegato tutto e ci ha chiesto questo quindi è giusto che sia così. Per quanto riguarda la squadra chiederò come ho già iniziato a chiedere grande partecipazione disponibilità e sempre e comunque dal primo al 95esimo minuto pensare che indossiamo una maglia gloriosa una maglia importante e quindi dobbiamo onorarla dal primo al 95esimo minuto in tutte le partite. Stefano Rossi Mestr buongiorno salve ben trovato io volevo capire se in questi giorni c'è stato un momento anche di confronto con la proprietà con i dirigenti se tutti insieme avete parlato avete parlato con la squadra se è arrivato un messaggio tra virgolette dall'alto e che tipo di messaggio è arrivato in questo momento grazie è arrivato un messaggio di compattezza di unità di intenti di voglia da parte di tutti e di consapevolezza che abbiamo davanti dieci partite di cui sei in trasferta e quattro in casa difficili impegnative un calendario impegnativo e quindi come dicevo prima ci vorrà una grande compattezza da parte di tutti dell'ambiente della squadra della dirigenza del presidente stesso che ieri ci ha voluto salutare e essere vicino come cerca di fare sempre lui che è il nostro primo sostenitore e quindi di cercare poi di voler andare a fare ecco quei punti importanti che servono per poter portare a casa un campionato che si è posto in maniera un po' più complicata di quello che si pensava e quindi dobbiamo pensare solo a questo ora concentrarci una partita alla volta e cercare da ogni partita di fare prestazioni importanti per portare a casa risultati e questo si potrà fare solo esclusivamente pensando al noi non all'io pensando allo gruppo pensando all'unità di intenti che tutti dobbiamo avere in quest'ultimo periodo per poter far sì che le cose possano viaggiare in maniera positiva Francesca Bandinelli Sì ciao mister io ti domando se hai ritrovato una squadra in qualche modo più sordita forse anche di fronte a queste difficoltà che nessuno a inizio stagione immaginava oppure più arrabbiata anche dopo il K.O. con il Milan come maturato le decisioni arbitrali a cui ha fatto riferimento lo stesso Antonioni e quindi concentrata nel voler rovesciare ad ogni costo la prospettiva come l'hai trovata la Fiorentina grazie no in questo senso sicuramente da un lato un po' di preoccupazione in virtù della classifica di alcune situazioni accadute però nello stesso tempo vogliosa di voler voler fare insomma cambiare queste sorti di voler mettere in campo tutto quello che si ha per poter andare a giocarsi queste partite che restano con un atteggiamento con un atteggiamento giusto ora io cercherò di capire in fretta più in fretta possibile anche perché in questa settimana magari qualche ragazzo è stato via è rientrato qualcuno è rientrato solo ieri e quindi cercherò di capire in fretta qual è quale sensazione che poi ti dà solo il campo non l'allenamento ti dà la partita perché poi quando c'è la partita alcune situazioni le leggi in maniera più chiara perché c'è la prestazione c'è l'emozione se c'è un po' di timore in più timore in meno se la squadra è convinta abbiamo ripreso a fare determinate cose quindi ci vorrà insomma da riprendere certi tipi di discorsi in fretta per poter avere una squadra compatta organizzata che sappia fare bene le due fasi la fase di non possesso la fase di possesso siccome mesi fa siamo stati la miglior difesa del campionato e sappiamo tutti che i migliori risultati si costruiscono sia su un atteggiamento giusto una concentrazione giusta una organizzazione giusta nella fase difensiva e attenzione giusta e nello stesso tempo siamo stati anche capaci di fare due tre gol essere pericolosi in più occasioni quindi migliorare anche la fase offensiva e quindi in questo senso voglio capire la squadra di questi pochissimi giorni in cui siamo stati insieme cosa ha potuto memorizzare e quindi andare a lavorare su queste cose dopo la partita di Genova magari in questo senso si può trovare un metodo di giudizio ancora più preciso e quindi andare a capire in fretta cosa si sarà da fare per poter migliorare ulteriormente Mario Tenerani sì buongiorno a tutti ciao Beppe ben ritrovato buongiorno buongiorno ciao Mario senti ciao Beppe ti volevo dire mi puoi spiegare o ci puoi spiegare che cosa secondo te non è andato nel quello primo segmento di stagione in cui c'eri te poi è arrivato l'esonero adesso sei tornato quindi per capire cosa non è andato e per capire Beppe invece come dovrebbe essere diverso questo nuovo segmento di tua gestione tecnica della Fiorentina in cosa dovrebbe migliorare eventualmente ma guarda noi vi abbiamo detto all'inizio purtroppo quest'anno è stato un inizio particolare non solo per noi ma per tutti perché quando non riesci a fare la preparazione estiva non si può fare ti vengono ma non sono scusanti è quello che è accaduto quindi riporto quello che è accaduto quindi ci sono ovviamente ci sono stati dei problemini perché alcuni ragazzi sono stati infortunati basta ricordare che Pezzella non l'abbiamo quasi mai avuto se non nella partita con l'Udinese poi è fatto un tempo poi è uscito per il problema al piede importante quindi in sette partite praticamente non c'è mai stato con noi sul campo non si è mai allenato con la squadra non l'abbiamo avuto mai a disposizione quindi dietro abbiamo dovuto cambiare in continuazione nello stesso tempo abbiamo avuto dei ragazzi con il Covid vedi Pulgar vedi Caleon vedi altri ragazzi che non abbiamo mai avuto e quindi in questo senso è chiaro che magari c'era bisogno di un po' più di tempo per far sì nello stesso tempo tre volte quattordici giocatori sono andati con le rispettive nazionali e quindi il lavoro fisico anche fisico tecnico tattico dovevamo fare potevamo fare non l'abbiamo potuto svolgere perché ovviamente con i ragazzi che erano lontano da qui non essendo qui non potevano lavorare e quindi portare avanti quei lavori ovviamente meritava qualche settimana in più di tempo per poter raggiungere magari una condizione migliore detto questo abbiamo fatto comunque ottime partite perché ricordo la partita di Torino in casa la partita con l'Inter a Milano abbiamo fatto partite anche buone però è chiaro che in questo senso dovevamo recuperare queste situazioni e migliorare un po' sotto l'aspetto anche fisico per poter andare a fare partite come avevamo fatto nel finale di campionato lo scorso anno non ne abbiamo avuto l'opportunità e quindi è andata come è andata però questo è il calcio questo è un campionato particolare non solo per noi basta vedere chi è in fondo alla classifica Torino Cagliari squadre molto importanti che non erano di certo partite Parma che non erano di certo partite per fare un campionato di lotta per la salvezza eppure si trovano lì questo fa capire che in un campionato dove il Covid la preparazione dove alcune situazioni magari dei valori vengono meno e 2 più 2 non fa 4 e può far 3 quindi sono stagioni anomale non c'è pubblico non ci sono i nostri tifosi allo stadio altro aspetto molto importante per noi sono il nostro dodicesimo uomo in campo non li abbiamo mai avuti sono cose che poi a lungo andare magari possono pesare e quindi noi dobbiamo in questo ultimo periodo però non ci sono né se né ma dobbiamo scendere in campo da squadra organizzata da squadra pronta con determinazione con concentrazione con tutti quei fattori e valori su cui abbiamo sappiamo che possono essere determinanti e importanti per poter fare partite giuste poi il risultato ce lo dovremo conquistare sul campo con le nostre prestazioni prestazioni individuali di tattica individuale di reparto e di squadra Matteo Dovellini impostazioni tattiche che abbiamo visto ultimamente un 3-5-2 che poi chiaramente cambia perché sono solo numeri e questo lo sappiamo mister non è utile girarci intorno però ecco se la base è questa o se effettivamente vorrà portare qualche modifica grazie ma io sto lavorando abbiamo iniziato a lavorare perché come ripeto alcuni ragazzi non ci sono stati quindi abbiamo iniziato a lavorare su un paio di situazioni tattiche però detto questo poi un allenatore quando si subentra soprattutto va un po' su quelle che possono essere le certezze di un gruppo di una squadra su quello che sente più a sensazione che i giocatori possano recepire e soprattutto possano sentirsi un po' più sicuri per non dare magari eccessive preoccupazioni per non dare magari anche ulteriori se ci dovessero essere insicurezze e questo lo verificheremo dopo ora dobbiamo rimanere concentrati tutti i moduli possono essere giusti tutti i moduli possono essere sbagliati conta l'interpretazione conta la partecipazione la disponibilità l'intensità che si dà alla partita la concentrazione nella fase di non possesso nella fase difensiva l'attitudine a voler accompagnare l'azione a voler partecipare a riempire l'aria nella fase offensiva ad andare a partecipare in questo senso nella prima parte della stagione i quattro gol in sei partite di Castrovilli i gol degli esterni che sono arrivati di Biraghi di Lollo venuti di altri giocatori anche delle mezzali la pericolosità fa capire che non è che si attacca solo con le punte ma ci vuole la partecipazione da dietro sia su azione e anche sulla partecipazione sulle palle inattive come poi sono andati in gol anche i nostri difensori quindi anche nella fase offensiva stiamo riprendendo certi discorsi perché poi ripeto tutti i moduli possono essere giusti e tutti possono essere sbagliati ma ci deve essere nelle due fasi di gioco la partecipazione giusta alle due fasi di possesso e non possesso e quindi essere incisivi essere pericolosi ed essere nello stesso tempo equilibrati e quindi dovremo ricercare queste componenti attraverso il lavoro sul campo e riprendere delle certezze e ridare a questo gruppo certezze sicurezza in se stessi ai nostri giocatori perché possono andare in campo e fare prestazioni giuste Buongiorno mister Bentornato ovviamente anche da parte mia volevo chiederle ho sentito ovviamente tutta la sua conferenza stampa sono molto d'accordo quando lei dice adesso non contano Ribery Milenkovic Pezzella eccetera eccetera conta il gruppo e la squadra allora noi sentiamo sempre delle belle parole da parte vostra ovviamente quando siete lì poi magari in campo c'è un po' di delusione questo per chiederle come si fa a tenere viva la scintilla all'interno dello spogliatoio di uno spogliatoio che probabilmente il prossimo anno cambierà completamente volto ma qua in questo momento c'è solo un interesse da parte di una città innamorata del calcio ovviamente c'è da salvare un blasone una storia c'è da salvare una maglia allora le chiedo a lei che è un intenditore di questi momenti di emergenza come si fa a motivare un gruppo come quello della Fiorentina si fa si leggono le situazioni si deve capire soprattutto se c'è una piccola malattia e cercare di curarla in fretta capire subito cos'è che non è andato cos'è che non va e cercare di porvi rimedio nello stesso tempo poi però il coinvolgimento di tutti diventa fondamentale tutti si devono sentire importanti tutti si devono sentire titolari con cinque cambi a partita non possiamo fare altrimenti insomma abbiamo la disponibilità da parte di queste letture nel corso della partita di poter ricorrere anche a dei ragazzi che devono entrare in partita in corsa non è detto che chi parte dall'inizio è un titolare chi resta fuori nello studio tattico della partita è una riserva non vedo non ragiono così dopo che si è cambiata anche questa situazione dei cambi quindi ragiono nel studiare una prima partita una seconda partita una terza partita qualora ve ne fosse bisogno e in questo senso chiedo ai ragazzi massima disponibilità e partecipazione perché a volte è più importante il giocatore che subentra che entra perché fa cambiare le sorti di una gara in positivo le può far cambiare in positivo ma se poi non c'è coinvolgimento la fiducia in tutte le componenti in tutti i giocatori è chiaro che poi magari quando vengono chiamati in causa possono non darti quello che ci si aspetta e noi invece io in primis mi aspetto tanto da tutti tutti sono titolari come ho detto già loro e tutti devono poi nel momento in cui si scende in campo dare tutto per la Fiorentina per la maglia della Fiorentina perché questa squadra e soprattutto questa società e i nostri tifosi possono essere felici e orgogliosi di loro no ma ecco infatti questo le volevo chiedere cioè lei dice io mi aspetto tanto ma secondo lei questo gruppo è in grado ancora di dare tutto praticamente da qui alla fine del campionato perché per salvare la Fiorentina bisogna dare tutto in questo momento sì sì sono convinto di questo questi ragazzi faranno daranno tutto in tutte le partite ripeto dall'inizio alla fine dovremmo avere questo atteggiamento necessariamente dovremmo averlo sia durante gli allenamenti durante la settimana perché poi allenandosi in una certa maniera allenandosi con questo atteggiamento poi le cose le porti sul campo in partita e quindi dovremmo ritrovarle dovremmo ritrovarle se qualcosa magari è venuto meno e ripeto da parte mia c'è la massima volontà di voler recuperare tutti quei ragazzi che magari hanno avuto un po' meno possibilità un po' meno credito si sono un po' sfiduciati diciamo così in quest'ultimo periodo e quindi anche da loro mi aspetto tanto in questo finale di campionato e nel momento in cui si sarà ad andare in campo mi aspetto un rendimento ottimale da questo gruppo Marco Dell'Olio sì ciao ciao Beppe ben ritrovato e bentornato ti faccio una domanda su Caleon ma la collego un po' al fatto che ci viene detto comunque che è stato uno dei giocatori richiesti da te Iachini ha la media punta indubbiamente migliore rispetto agli allenatori che l'hanno si è preceduto che a Cesare Prandelli però forse proprio nel momento in cui cercavi immagino anche di cambiare un po' il gioco lo stile di gioco evidentemente con Caleon si cercava anche una propensione offensiva diversa sei stato mandato via si riparte da lì oggi ho questo mini torneo mini campionato di dieci partite dove forse insomma veramente occorre fare punti salvezza importanti magari dieci e continuare con il punto a partita di media potrebbero bastare ci faranno vedere ancora il vecchio Iachini che forse è quello che sai fare anche meglio e che ti ha portato a fare grandi risultati nelle squadre che hai allenato ma guarda Caleon è un ragazzo che ovviamente ha delle qualità importanti ci tengo mi farà piacere poter recuperare anche lui alla causa della della Viola perché è un giocatore che fa parte del nostro gruppo è un giocatore che può darci ancora può darci ancora tanto in questo senso è un giocatore che è venuto per sostituire un po' la caratteristica di Chiesa tra virgolette che facevamo giocare da terzo attaccante facevamo giocare da esterno nel momento in cui facevamo partite in una certa maniera purtroppo Caleon poi dopo quando è appena arrivato dopo poco ha avuto il covid e quindi non è più stato disponibile nella mia gestione e quindi poi dopo cosa sia accaduto non so resta la sua qualità le sue abilità resta la sua vivacità è un giocatore molto importante e dovremmo far sì di poterlo trovare di poterlo ritrovare magari e che ci possa anche lui dare una mano detto questo nella mia nella mia gestione precedente abbiamo giocato tante partite con Chiesa le mezzale offensive le due punte davanti quindi l'intento era quello di fare anche un calcio in una certa maniera propositivo un calcio che potesse di qualità che potesse portarci anche ad avere un'efficacia importante in zona gol ce l'avamo riusciti coniugando a questo alla miglior difesa del campionato ora dovremo ripartire per ritrovare le certezze e ricreare una difesa diciamo di ferro tra virgolette e nello stesso tempo andare a rintrodurre certi concetti anche nella nella fase offensiva con giocatori con certe caratteristiche se potremo coniugare queste cose ben venga era nel mio obiettivo all'inizio purtroppo non c'è stato poi tempo per poterlo andare a sviluppare nel tempo questo discorso come era stato fatto nel finale di campionato l'anno scorso quando si giocava con Gezzal Castrovilli Chiesa Ribery Vlaovic o davanti Vlaovic Cutrone che si alternavano davanti la fine qualche partita qua a me e quindi però avevamo trovato già lì degli equilibri una solidità difensiva importante delle certezze importanti dietro che ci potevano permettere di essere un po' più larghi tra virgolette davanti e ora dovremo ritrovare quella strada lì se riusciamo a ritrovarla è chiaro che anche quei giocatori qualitativi offensivi potranno darci una grande mano anche loro quindi andiamo di passo in passo di step in step perché l'obiettivo è anche quello di recuperare tutti e di poter tornare a fare quel percorso lì Luca Cellini Luca recuperiamo dopo Cellini Buongiorno mister ben ritrovato volevo sapere che squadra è il Genoa cosa ha portato Ballardini di positivo alla squadra Ligure e come cosa sono le caratteristiche della Fiorentina per poter fare risultato a Marassi contro questa squadra grazie Ballardini ha fatto un grande lavoro perché ha dato un'identità precisa alla squadra ha detto che magari all'inizio hanno avuto magari problemi anche loro di Covid che hanno da mesi diversi mesi hanno risolto e ora la squadra ha una sua identità ha delle conoscenze si vede quando sta in campo si sa star bene è efficace nella fase difensiva efficace nella fase offensiva giocatori di ottima qualità in tutti i reparti in tutti i reparti c'è esperienza c'è qualità in mezzo al campo dietro davanti ci sono anche giovani molto interessanti quindi sicuramente una squadra che Ballardini ha saputo amalgamare bene alla quale ha dato un'identità importante e quindi la Fiorentina è chiamata subito ad una partita difficile e dovrà affrontarla con grande attenzione concentrazione organizzazione di gioco mentalità giusta perché insomma le insidie ci sono perché questa è una squadra che ha ottime individualità e basta vedere il percorso che ha fatto negli ultimi mesi per capire per capire la forza anche di questa squadra Jacopo Nathan Salve mister buongiorno intanto bentornato e le volevo chiedere visto che ha parlato di Kayekon di un altro giocatore che con lei ha sempre giocato e ultimamente ha avuto qualche difficoltà le volevo chiedere come ha trovato Amrabat anche se è tornato da poco lo sappiamo come sta è sereno anche fisicamente come l'ha trovato grazie beh come l'ho trovato l'ho visto solo un giorno quindi vediamo ecco nelle ultime ore come sta ho saputo che nelle ultime settimane ha avuto qualche problemino mi hanno detto alla schiena quindi vediamo ecco stiamo valutando tutte le condizioni individuali fisiche e poi sul campo verificheremo con dei colloqui con dei colloqui sia con i giocatori stessi che con lo staff medico un attimino il loro stato di condizione nell'immediato però ecco mi aspetto da tutti e anche da Sofi una partecipazione un rendimento come è stato diciamo com'è nelle sue corde via c'è fiducia su tutti i componenti e in tutti i componenti della squadra e tutti dovranno poi nel momento in cui si sarà chiamati rispondere sul campo per il bene unico della Fiorentina Paolo Caselli sì buongiorno mister buongiorno lei è bentornato lei ha parlato del pubblico la Fiorentina giocherà partite in casa con le prime della classe e in trasferta con le sue antagoniste la mancanza di pubblico andando a giocare in campi difficili può essere un vantaggio ma adesso noi non dobbiamo guardare casa fuori casa anche perché come dicevi bene te insomma il pubblico non ci sarà sia a casa nostra che a casa degli altri noi dobbiamo pensare a preparare una partita per volta senza far calcoli senza fare troppe considerazioni inutili dobbiamo pensare a preparare dieci finali e in ogni finale ci vuole da tirar fuori una prestazione perfetta perché poi in Serie A abbiamo visto basta un nulla basta una disattenzione basta un calo di attenzione un errore di tattica individuale ti può compromettere un risultato di una partita e quindi in questo senso dovremo essere ancora più concentrati ancora più attenti lavorare di organizzazione lavorare di squadra nelle due fasi e farlo nella maniera migliore per 95 minuti senza senza risparmio senza andare a pensare a quello che è casa fuori casa con lo stesso atteggiamento la stessa mentalità per portare a casa più punti possibili anche lo scorso anno abbiamo fatto siamo stati una delle squadre che poi ha vinto ha vinto tanto nel nostro percorso di lavoro penso di noi abbiamo vinto sei partite mi sembra cinque o sei partite fuori casa e quindi nella mia nel mio percorso di lavoro qui con questo con questi ragazzi questo gruppo e dobbiamo tornare a pensare che casa o fuori casa non c'è differenza dobbiamo scendere in campo comunque con un atteggiamento giusto positivo propositivo che ci possa portare ad ottenere risultati ora capiamo in fretta cosa abbiamo cosa siamo quali difetti magari possiamo avere quello che dobbiamo magari toglierci qualche se dobbiamo toglierci qualche scoria di dosso qualche timore di troppo che magari possiamo aver accumulato in relazione a una classifica a una situazione che si era venuta a creare e dobbiamo spogliarci di tutte queste cose perché poi il calcio vuole serenità vuole testa libera e andare in campo con la personalità giusta e l'attenzione giusta per portare a casa i risultati quale Marco Antonio ultima domanda buongiorno mister bentornato e buon lavoro volevo chiederle in particolare se poteva darci un aggiornamento veloce sulle condizioni di Igor e su Cocorin in particolar modo nell'ultimo acquisto invernale che è da poco rientrato a Firenze ecco un suo giudizio riguardo grazie stanno lavorando in maniera differenziata e quindi Igor è un ragazzo che conosco bene perché è chiaro ha giocato con me è stato con me ha giocato diverse partite e quindi penso nelle prossime settimane potrà rientrare per quanto riguarda Cocorin ho avuto solo possibilità di avere un colloquio con lui perché anche lui sta lavorando con i fisioterapisti per cercare di risolvere questo infortunio che purtroppo lo ha bloccato e magari non gli ha consentito di poter fare partite o partecipare alla vita della squadra perfetto grazie mister grazie a tutti buona giornata a voi grazie a tutti